Toro per quanto riguarda la vostra vita professionale siete molto ma molto determinati sapete dove volete arrivare avete in mente il vostro obiettivo sapete in che modo muovervi nel vostro mondo del lavoro e quindi adesso siete veramente molto ma molto determinati molti di voi probabilmente hanno davvero in mente dei progetti particolari o comunque un qualcosa di specifico il consiglio delle carte è al momento quello di mostrare al mondo chi realmente siete perché il segreto sta lì se voi riuscite a manifestare voi stessi per quello che valete ecco che la riuscita è assicurata tra l'altro potreste anche in questo periodo potreste anche avere delle nuove idee brillanti delle nuove idee che possono portarvi al successo facendovi anche apparire per persone particolarmente intelligenti dovete avere più fiducia in voi stessi perché il segreto sembra tutto qui nel momento in cui voi riuscite ad avere più fiducia in voi stessi e a manifestarlo automaticamente anche il mondo fuori vi vedrà per quello che davvero siete attenzione